Un convegno su Art Bonus per sensibilizzare e dare l'opportunità a chiunque di donare alla cultura. È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto con l'Ordine dei Commercialisti, con il Sindaco, con la Fondazione Caript perché le opportunità che la cosiddetta legge sull'Art Bonus offre non sono, a parere di noi operatori, così note, così diffuse nella loro modalità di applicazione che è molto semplice. In buona sostanza chiunque, da un cittadino ad un'impresa, ad un professionista eroghi risorse di denaro a favore della cultura e in particolare per quello che ci riguarda dei teatri, dello spettacolo al vivo recupera il 65% della somma che ha elargito il credito d'imposta, quindi è un automatismo per cui da 1.000 euro donati in realtà se ne recuperano 650 che diversamente verrebbero pagate d'imposta. È un'occasione importante per diffondere la conoscenza di questo strumento che permette la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico coinvolgendo in modo attivo le imprese e i cittadini. Questo può essere davvero uno strumento per far diventare il nostro patrimonio anche un volano di crescita della nostra comunità anche dal punto di vista del turismo e dell'attrattività economica. L'Ordine dei Commercialisti di Pistoia ha organizzato questo evento fondato sull'Art Bonus per diffondere maggiormente l'istituto. È un istituto che viene incontro alla cultura in generale e quindi consente a persone fisiche, società, enti di poter contribuire. L'Ordine dei Commercialisti naturalmente ha fornito supporto dal lato tecnico-professionale per dare un messaggio il più semplice possibile nei confronti della partecipazione del pubblico.